bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono brutal e oggi siamo su clash of clans signori per continuare la road to level 10 walls come potete vedere ho 6 milioni di oro e 3 milioni di elisir non perdiamo tempo andiamo a fare subito un primo muretto in oro imposta come attivo stavolta me lo sono ricordato al primo colpo ragazzi meno male ok andiamo a fare subito un muretto con l'oro e a fine video vi farò vedere a quanti muretti siamo arrivati andiamo a fare anche un po di giardinaggio che ho qui un alberello e una cassa di gemme perfetto andiamo a ritirare il tutto e riportiamo il villo come era in originale perfetto signori siamo pronti per andare a farci un attacco in live insieme vediamo un pochino intanto il clan che mi dona draghi così spudoratamente grazie mille alex ti voglio bene andiamo a fare un attacco signori si sono svegliati i reali sì in questo momento perfetto andiamo pure ok signori abbiamo trovato questo villaggio a 2.190 di nero il che mi piace abbastanza vediamo un pochino che cosa riusciamo a combinarli ovviamente ho farmato molto molto bene fino adesso e ovviamente adesso che registro tutta la fatica di sto mondo per trovare un villaggio che sia almeno sopra i 300.000 ma non importa adesso vediamo un pochino se dobbiamo usare una cura a questi poveri giganti se no vengono distrutti dalla torre del mago direi di una cura di usarla tanto non dobbiamo lesinare sull'elisir non c'è nessun problema buttano giù la difesa aerea e noi lanciamo i nostri curatori direi a questo punto di lanciare re e regina che vanno perfetta non è vero la regina ovviamente esce perché se no non è divertente il video ok perfetto mettiamo fuori gli arcieri per pulire e velocizzare il tutto intanto la regina è stata presa di mira da due curatori mentre uno è rimasto sul re i poveri giganti ovviamente nessuno perché sono un po' stronzi evidentemente ok nessun problema dai non importa un curatore sta per andare giù e teniamo d'occhio la regina che sta perdendo anche un po' di vita mi raccomando stiamo attenti non facciamoci scappare la possibilità di usare l'abilità intanto abbiamo già preso la maggior parte del nero e tutto ciò mi piace parecchio abilità del re assolutamente quando escono le tesla c'è poco da fare e i nostri giganti purtroppo se ne sono andati andiamo a cercare di prendere il resto del nero che è sicuramente qua il re intanto è andato rimane la regina da sola là in alto diamogli un po' di manforte con qualche arciere che pulisce e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con le ultime truppe che abbiamo a disposizione vediamo un pochino signori allora la situazione non è delle migliori non è delle migliori perché mi sa che il municipio non riusciamo ad andare a prendercelo però vabbè abbiamo già il 77 per cento abbiamo ancora un pochino di punti percentuali da fare quindi non sarà un grave problema mi spiace più che altro perché adesso contiene un po' di risorse mi spiace diciamo lasciaglierlo lì usiamo l'abilità della regina contro la sua regina e facciamo fuori subito anche la sua torre del mago ci andiamo a prendere così l'ultimo deposito di elisir dopodiché signori direi che ce ne possiamo tornare a casa attenzione no aspettiamo vediamo un pochino la regina che cosa ha intenzione di fare vediamo se riesce ad andare a prendere quei due depositi di oro almeno dare qualche colpo a uno dei due vediamo un pochino fa fuori l'altare della regina e sì signori si mette così a colpire il deposito d'oro che noi ci prendiamo senza senza lamentarci troppo ora volano e vediamo un pochino si arriva anche al municipio non ci arriva al municipio però va sull'altro deposito d'oro e con questo abbiamo colpito e distrutto tutti i depositi adesso si mette a spaccare il muro ma ovviamente in 10 secondi non farebbe mai in tempo a distruggere anche il municipio ce ne torniamo a casa con 299 mila di oro 268 mila di risir e 1908 di nero perfetto vi faccio vedere intanto gli attacchi che stavo facendo precedentemente a quando filmavo come potete vedere 582 mila 496 mila 3786 di nero un paio di inattivi dove ho preso soltanto risorse normali e pochissimo nero e un altro paio di attacchi fatti seriamente eccoli qua questi tre dove 381 377 524 577 565 618 con 4756 di nero devo dire che questo è stato veramente un ottimo attacco per il nero ed è tutto nero che finirà nei nostri reali signori non perdiamo tempo andiamo nel nostro video di modifica a fare altri due muretti eccoci qua finiamo con loro questa linea e cominciamo con l'elisir un'altra linea di muretto mancano veramente pochi pezzi comunque andiamo a vedere quanti ne mancano di preciso e a quanto siamo arrivati siamo arrivati a 223 mura signori di livello 10 ne mancano soltanto 27 sono veramente poche e ho veramente sempre più paura ogni giorno che passa del male che mi faranno quando le risorse rimarranno tutte nei depositi addirittura anche nelle miniere prima o dopo mentre io dovrò fare soltanto i reali fino a livello 30 pazienza signori vedremo un pochino che cosa ci combinano e magari vi posterò i replay che mi faranno più male ovviamente perché sennò non ci divertiamo signori io spero che questo video farm vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e un commento qui da brutale è tutto dalla raga